carissimi fratelli e sorelle amici cari pace del signore a tutti quanti voi spero che stiate tutti quanti bene oggi è 24 dicembre e vogliamo iniziare questa giornata cercando la faccia del signore e proprio per questo leggeremo prima un passo e poi lo breve lo meriteremo brevemente il passo si trova nel libro dei salmi salmo 43 e leggeremo il verso 3 dove lo scrittore afferma e qui è un'invocazione che gli rivolge a dio manda la tua luce la tua verità affinché mi guidino e mi conducono il tuo santo monte alle tue dimore davanti a noi abbiamo un uomo che vive uno stato di profondo abbattimento interiore è un uomo che si sente addirittura abbandonato da dio lo leggiamo al verso 2 è un uomo che ha bisogno che qualcuno gli faccia giustizia e che lo soccorra perché evidentemente è attaccato e perseguitato dall'uomo che lui definisce il verso 1 falso e malvagio ora la vita di ogni persona è caratterizzata da alti e bassi è caratterizzata da momenti di gioia ma ahimè anche da momenti di dolore di frustrazione e anche dai momenti in cui qui dobbiamo essere sinceri ci sembra quasi di essere stati dimenticati fino anche dal signore momenti nei quali preghiamo ma non vediamo delle risposte perlomeno ci sembra di non vederle nell'immediato momenti nei quali sembra che tutto il mondo sia contro di noi momenti nei quali anche nel campo spirituale ci affatichiamo ma non vediamo i frutti di questo lavoro che svolgiamo ebbene in questi momenti di dolore di abbattimento non dobbiamo lasciarci sopraffare dalle circostanze ma dobbiamo elevare la stessa preghiera che elevò l'autore di questo salmo e cioè manda la tua luce e la tua verità affinché esse mi guidino e mi conducono al tuo santo monte alle tue dimore sì perché quando la luce di dio ci inonda allora il buio e le tenebre che avvolgono la nostra vita a causa delle circostanze che attraversiamo si dissolvono perché la luce vince sulle tenebre perché cristo ha vinto sul peccato sulla morte ha vinto sulle sofferenze sulle malattie sui dolori ha vinto su tutto quello che può rattristare l'anima nostra e possa la luce del signore in questo giorno irradiare la vita di ognuno di noi in un modo particolare di quanti stanno attraversando dei momenti di dolore e di sofferenza di quanti stanno vivendo delle circostanze di abbattimento interiore sappi caro o cara che mi stai ascoltando che la luce di dio è l'unica risposta a quel senso di sconforto che sta riempiendo la tua vita o che ti sta portando piano piano verso la depressione e la luce di dio quella che può veramente inondare il tuo cuore è ridarti quella gioia di vivere che magari stai piano piano perdendo una gioia che manifesti esteriormente con dei sorrisi ma che nella realtà non abita nel tuo cuore non solo la luce ma anche la verità la verità di dio naturalmente che quella che è capace di guidare le persone lungo i giusti sentieri noi siamo circondati da un mondo che ci dice tante menzogne riguardo al modo con cui ci dobbiamo condurre riguardo al modo con cui dobbiamo affrontare le circostanze e delle volte queste menzogne vengono ripetute alle nostre alla nostra mente allora quando il nemico delle anime nostre ci dice che per noi non c'è speranza che non c'è soluzione che noi siamo destinati ad essere sconfitti che la nostra vita è un fallimento totale eccetera eccetera ascolta la verità di dio tu sei destinato alla vittoria se credi in cristo gesù tu non solo vincerai ma sarai tra coloro che regneranno col signore se continuerai a perseverare nella fede e la tua vita può ricevere un miracolo da un momento all'altro perché il signore che compiva i miracoli nel passato è quelli che è colui che li compie ancora oggi la tua vita può essere rialzata come avvenne a davide in diverse circostanze tu potrai tornare a sentire i canti di gioia ed essere tra quelli che canteranno questi canti di gioia vivi nella verità non nelle menzogne che l'avversario prova a inculcare nella tua mente e allora anche tu troverai la forza che ti permetterà di continuare a camminare lungo il sentiero della volontà di dio malgrado le circostanze avverse che si stanno manifestando nella tua vita e allora anche tu raggiungerai il suo monte santo le sue sante dimore già su questa terra comincerai a godere della gioia della salvezza e della benedizione di dio e riceverai quelle forze che ti sono necessarie e che non riesci a trovare in te stesso per poter affrontare la battaglia che la vita ti presenta ma soprattutto troverai le forze per poter rimanendo fedele al signore entrare nella gerusalemme celeste e vivere col signore per tutta l'eternità tra il caro fratello cara sorella amico che mi stai ascoltando permetti allo spirito di dio di poter ravvivare la tua vita e la tua fede affinché tu possa ricevere le forze necessarie e poter un giorno entrare nella gerusalemme celeste insieme ai santi di ogni tempo contemplare dio faccia a faccia ed essere nella sua presenza per tutta l'eternità coraggio andiamo avanti cercando il signore e vivendo nella grazia non saremo delusi ma ogni giorno riceveremo quella manna che viene dal cielo che ci fortificherà e ci permetterà di poter proseguire il cammino la pace di dio la sua presenza il suo amore e la sua forza sia con tutti quanti noi dio ci benedica insieme